Parlano di emergenza igienico-sanitaria, 28 sindaci del Vastese, in una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Mattarella e al Premier Conte. Da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus, infatti, il consumo d'acqua è aumentato ovunque. In media utilizziamo tra il 20 e il 30% di acqua in più. E questo perché si è costretti a casa, per non parlare di continui, ripetuti appelli e lavarsi spesso le mani. Una buona igiene, infatti, è la prima arma di cui disponiamo in questa guerra contro il virus. Ma, d'altro canto, va ad aggravare una situazione già di per sé preoccupante. Nel Vastese, i sindaci denunciano un enorme spreco di acqua, che nel sud dell'Abruzzo è fornita dalla Sasi S.p.A. Secondo i primi cittadini, ci sarebbe uno sperpero d'acqua anche della 70%, a causa dell'inadeguatezza della rete idrica che risalirebbe a oltre 60 anni fa. Ma la scarsità d'acqua riguarda l'intero Abruzzo. È come se fosse tutti i giorni domenica, ha dichiarato Lorenzo Livello, direttore tecnico dell'Aca, l'azienda che rifornisce Chieti e gran parte del Pescarese. Le proiezioni per i prossimi mesi sono di carenza idrica, bisognerà lavorare a concluso livello per mettere in atto politiche di razionalizzazione. Inoltre bisogna tenere presente che siamo al termine di un inverno anomalo, che ha portato scarsissime precipitazioni. E ora i meteorologi lanciano l'allarme, siamo già subendo una condizione di siccità. Questo inverno è il risultato sopramedia dal punto di vista delle temperature, le quali sono risultate quasi sempre miti e mai con valori sotto media stagionale, tranne in un paio di occasioni. Mentre dal punto di vista delle precipitazioni, queste sono risultate abbondantemente sotto media stagionale. Basta pensare al mese di gennaio che ha piovuto, se non sbaglio, solamente un giorno rispetto a delle medie che abbiamo di centinaia di millimetri. Si pensava ad un cambio di circolazione per il mese di marzo, tuttavia questo non è avvenuto. Per quanto riguarda le previsioni a lungo termine, si pensa effettivamente che sul finire di marzo e soprattutto per aprile le cose potranno cambiare, ma ovviamente servono delle conferme. Attualmente non si possono fare previsioni con un minimo di validità per quanto riguarda la stagione estiva. Intanto lo stop alla produzione all'intero sistema paese, strategia questa che potrebbe essere presto imitata dagli altri paesi europei, non produce cambiamenti meteorologici, ma ha migliorato sicuramente la qualità dell'aria. Effettivamente è stato riscontrato, soprattutto per quanto riguarda la pianura padana, la quale è famosa per l'inquinamento, che in queste zone la concentrazione degli inquinanti è notevolmente diminuita. Di conseguenza la qualità dell'aria è migliorata su quasi tutta la pianura padana.